Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo secondo video della nostra serie su Giappone di Oli e Benji Siamo pronti per la seconda partita del girone Però prima vediamo un attimino che hanno fatto le squadre nel girone nello scorso episodio che non abbiamo più controllato Allora nel gruppo A la Spagna ha vinto contro il Belgio Quindi la Spagna ha vinto contro il Belgio e il Cile e l'Irlanda hanno pareggiato Il Sudafrica ha vinto contro... no, Turchia e Stati Uniti hanno vinto contro Olanda e Sudafrica Francia e Bulgaria hanno vinto contro Giamaica e Slovenia Germania e Ucraina hanno vinto contro Austria e Norvegia La Danimarca ha battuto il Cameron e l'Egitto e Portogallo hanno pareggiato Messico e Ungheria hanno vinto contro Brasile e Grecia Attenzione, davamo per scontato la vittoria del Brasile e invece il Brasile è andato a perdere contro l'Ungheria Signori, attenzione, attenzione Giappone pareggia contro Paraguay e Slovacchia vince contro la Cina E Italia e Argentina vincono la loro prima partita dell'esordio di questo mondiale contro Romania e Nigeria Va bene signori, noi stiamo tranquilli, calmi, tanto sono tre partite, ce la possiamo fare tranquillamente signori Ora andiamo a giocare, non mi ricordo contro chi Però, però, però signori, già sarebbe importante portarci a casa una vittoria Già metterebbe in chiaro alcune cose Allora, andiamo un attimino a sistemare la formazione Cambia, sì Andiamo a mettere Come cazzo la giocavamo? Col 4, no, eravamo in 3 dietro Col 3 No, no, no Quale cazzo non era? No, era il 3 Questo Il 3 Sì, questo di qua era Perfetto Che avevamo Callagher e Mello davanti alla difesa I gemelli Derrick sulla fascia Atton dietro le punte Mark Landerson e Tom Becker Non cambierei niente E lascerei i nostri 11 titolari che hanno giocato l'altra volta Giochiamo contro la Slovacchia, signori Attenzione Partita di vertice Partita di vertice Se vince la Slovacchia si qualifica già al girone successivo Al turno successivo Se pareggiamo rimane tutto aperto Se vinciamo noi, signori Superiamo la Slovacchia La cosa diventa interessante Ma la partita inizia, signori La partita inizia Dobbiamo un attimino riprenderci La nostra Il nostro coraggio del campo, signori Il nostro carattolo Che cazzo non lo fai? Lo fai passare così? Allora Allora c'è un po' di confusione, signori C'è un po' di confusione Ci pensa Benji Price A mettere ordine e rinvio subito Benji Price tira lunga Ma di testa non riusciamo a spezzarla Derrick, attenzione Attenzione, Yuma Yuma trova l'anticipo Grandissimo Yuma Che poi cerca Aton Aton, Aton, Aton Aton cerca Callagher Callagher per Derrick Derrick, Derrick Che vuole partire sulla fascia Ma viene chiuso Derrick E la Slovacchia riesce a ripartire Attenzione Bruttissimo Fallo a centro campo Brutto fallo inutile Di Philip Callaghan Che è preso un attimo dal nervosismo Se il Giappone si gioca tanto in questo mondiale Lo sanno loro Lo sappiamo noi Attenzione Attenzione Ancora Davanti l'aria No Porca miseria Slovacchia vicinissima al gol Derrick Riesce a partire Attenzione Riesce a partire Jason Derrick Jason Derrick ha le praterie E parte Jason Derrick Jason Derrick parte Vede benissimo Mannaggia Eravamo riusciti a liberare Ancora Derrick 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 Per l'Enders No Si fa anticipare l'Enders Era riuscito in una grandissima cosa Il Giappone A liberare A liberare Annaggia ancora Troppa frenesia Troppa frenesia Signori Troppa frenesia Non va bene La Slovacchia Vicinissima al gol del vantaggio Compinte Non so chi cazzo Sia pinte Però va bene Se qualcuno si ricorda Chi fosse pinte Di questa Slovacchia Me lo dico Perché non Il vuoto più totale Attenzione Mark Lenders Mark Lenders Mark Lenders Mark Lenders Vede Derrick Prova il lancio lungo Derrick Derrick No Era calcio d'angolo Dai Non mi puoi Rubare così Però Attenzione Attenzione ancora Il contrasto Che però non riesce La Slovacchia Con un cambio di gioco Velocissimo Riesce a portarsi Dall'altro lato Vediamo Eh niente Non riusciamo a Ricoprire la rimessa laterale Con Bruce Harper Rimessa laterale Derrick Cerca di andare in chiusura Grandissima La chiusura di Derrick Che anticipa il passaggio La rimette fuori Ancora la Slovacchia Sul pallone Attenzione La Slovacchia 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 Yuma Yuma Si fa anticipare No Denver Bob Denver Si è fatto anticipare E' ancora la Slovacchia Vicinissima Al gol del vantaggio Attenzione Buono Questo inserimento Attenzione 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 Derrick 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 Per liberare La sua potenza Si vede che ancora Da dei problemi Alla spalla Signora Attenzione Atten 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 Ancora Atten Per Derrick 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 Per Tom Baker Che non riesce A inserirsi Il pro De Tom No Buono Bravissimo Jason Derrick James James Derrick Scusatemi A intercettare Questo Passaggio Attenzione Ancora Su quella fascia Grandissimo L'anticio di Bruce Harper Che cerca Atten Che riesce a fermarsi Grandissimo momento Di Atten Grandissimo momento Di Atten Che cerca Baker 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 Libero No Grande azione Del Giappone Tom Baker Però la tira Sul portiere Mannaggia Attenzione Ancora Atten Per Baker Baker La restituisce Atten Atten Vede Lenders Lenders Si ferma Si gira Il tiro Pallone fuori Di Mark Lenders Che non riesce Nel tiro Della Tigre Giappone Vicinissimo Al gol Del vantaggio Giappone Vicinissimo Al gol Del vantaggio Annaggia Ancora La Slovacchia Riesce a tenere Il pallone La Slovacchia Sulla fascia Attenzione Mello 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 Che da giovane Era pelato Adesso è capellone Però va bene così Attenzione Slovacchia Grandissimo L'anticio di Callaghan Callagher Di Philp Callagher Che attenzione Ancora Batti e ribatti Mamma mia Batti e ribatti La Slovacchia Ci prova Altra azione Da gol Per la Slovacchia Giappone deve un attimino Fare mente locale Denny Mello Denny Mello 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 Però va a chiudere Lo tiene Lo tiene su quella fascia Lo tiene Lo tiene Ma che parte Lo stesso Il traversone Attenzione Atton Recupera un pallone In una posizione bruttissima Lo perde pure Disattenzione di Atton Disattenzione di Atton E la Slovacchia Rescende nuovamente Al tiro E ora È un momento In cui soffre Il nostro Giappone Sta soffrendo un poco Il nostro Giappone Sta soffrendo un poco Bisogna Un attimino Rimettere le cose In ordine Bravissimo Qui Callaghan Philp Callaghan Per Atton Per Atton Che cerca Lenders Che sbaglia il passaggio Lenders Grandissimo Clifford Yuma Recupera questo pallone Importantissimo Clifford Che poi aspetta il movimento Di Derrick Derrick per Lenders Lenders È chiuso Lenders Lenders Cerca Derrick Derrick ancora per Lenders Lenders Per Atton Atton Oliver Atton La sblocca lui Giappone 1 Slovacchia 0 Slovacchia 0 Slovacchia 0 Quello che cavolo era Non me lo ricordo Grandissimo Il tacco di Lenders Per il movimento di Atton Che la piazza all'angolino Niente può fare il portiere Giappone 1 Slovacchia 0 Slovenia Non mi ricordo Se era Slovenia o Slovacchia Va bene Superfluo L'importante è che siamo in vantaggio 1 a 0 Con gol di Oliver Atton La sblocca lui finalmente Il numero 10 di questa nazionale Trova il movimento giusto Attenzione ancora Lenders Lenders Per Tom Baker Tom Baker Tom Baker Tom Baker Si muove troppo In orizzontale Si fa anticipare Attenzione però La Slovenia Che comunque È stata minacciosa Per tutto il primo tempo Infatti Attenzione Palla sulla fascia Attenzione Parte il traversone Nessuno anticipa Ci pensa Il difensore Atton Atton cerca Lenders Lenders Per Tom Baker Tom Baker Riesce a girarsi No Non mi puoi fischiare lì Non mi puoi fischiare lì Che Tom Baker Se n'era andato Non mi puoi fischiare lì Va bene Non effettuiamo cambi Non effettuiamo cambi Signori Manteniamo la formazione Così com'è Attenzione Ancora Atten 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 Per Lenders Veramente non era più Atten Va bene Atten Ancora Mello Perde il pallone Mello in una posizione brutta del campo Ancora Mello 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 Per Derrick Derrick Per Tom Baker Tom Baker Tom Baker Vede l'insedimento Di ogni Atten Poi Derrick Nell'anticipo Manda la palla fuori Rimessa laterale Per la Slovacchia Slovacchia Attenzione Attenzione Ancora Attenzione Ancora Movimento Derrick in chiusura Derrick in chiusura Derrick in chiusura Non vuole farlo partire Derrick No Derrick si fa passare il pallone avanti C'è un attimo di confusione Nella formazione del Giappone Price La butta in profondità Il pallone arriva a Baker Baker lancia Derrick 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 Il contro No Il cross Per Mark Lenders Che però non ha fatto il momento giusto Il cross era anche un poco troppo lungo Però vabbè attenzione Attenzione Atten Atten a mettere ordine Atten a mettere ordine Atten a mettere ordine Attenzione Tom Baker Per Mark Lenders Ma è troppo Troppo stretto Il passaggio Il pallone non arriva Ancora No 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 Gravissimo Qui il movimento Sbagliato Di tutta la difesa A parte il traversone Pallone messo fuori Atten Nel posto giusto Nel momento giusto Ma c'è Phil Callaghan Imprescindibile questo giocatore Derrick 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 Per Atten 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 Per Callaghan Callaghan per Derrick Derrick Sbaglia il movimento Grandissimo Bob Denver Difesa Quasi perfetta Del Del Giappone Annaggia Qualche imperfezione Al centrocampo Qualche imperfezione Al centrocampo Attenzione Attenzione alla fascia Attenzione alla fascia Infatti Mamma mia Benji Price Esce Sicuro E la tiene lì La tiene lì Benji Price Al sedicesimo Al sedicesimo Pallone per Clifford Yuma 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 Cerca Derrick 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 Per via centrali Ancora Atten 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 La possibilità di liberarsi Atten Cerca Baker 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 Guadagna Una punizione Bravissima Tom Baker Facciamo dei cambi Signori Facciamo dei cambi Allora Bruce Harper E' completamente giù Quindi direi Leviamo Bruce Per Chi può entrare Robby Petterson Dai Mettiamo dentro Robby Petterson E poi Mettiamo dentro Anche Julian Ross Dai Julian Ross A posto di Mello Che mi è sembrato Un poco Un poco Un poco Spento Un poco Spento E poi Direi che per ora Va bene così Va bene così Signori Esordisce Junior Ross Che giustamente Non ha i 90 minuti Non ha i 90 minuti Non può giocare i 90 minuti Come tutti ben sappiamo Però Può dare sempre il suo Tom Baker Tom Baker Per Oliver Atton Oliver Atton Per Mark Lenders Mark Lenders Mark Lenders Aspettava il movimento Di Atton Che non c'è stato Atton però Recupera un gran pallone Ancora per Lenders Lenders Lancia Tom Baker Che però è sulla fascia Il pronto cross Attenzione Philip Callaghan Grande azione del Giappone L'abbiamo detto Questo Giappone È imprescindibile Da Philip Callaghan Grandissimo Il cross di Tom Baker A vuoto due giocatori Philip La stoppa E la piazza All'angoletto Dai così Dai così Dai così Giappone due Questo è importantissimo Signore Anche per un discorso Di gol Per un classifica Che vedremo A fine partita La differenza Da Redi Potrebbe anche essere Molto importante Grandissima Ancora qua l'intervento Serie di Battery Bat Grandissimo Derrick Che recupera questo pallone Derrick 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 Che cerca Atton Che cerca ancora Derrick Attenzione Che cerca Mark Lenders Giappone che in questa fase Non ha voluto Approfittare Approfittare Della situazione Si è lasciato Un attimino Attenzione Ancora Grandissimo Questo recupero Il pallone Atton Atton Ancora Per Lenders Lenders Per Tom Baker Tom Baker Tom Baker Vede il movimento Di Derrick Che aveva rallentato Un attimino Derrick Riesce a crossarla No Non ci credono Yuma Yuma per Callaghan 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 per Atton Atton per Baker Baker si ferma Vede Atton Atton Dritto per dritto Fatto bruciare I portieri I guantoni Grandissimo Il tiro di Atton Callaghan Callaghan Per Derrick No Non ci arriva Derrick Mannaggia Attenzione Ancora Giuliano Ross Giuliano Ross Giuliano Ross Non riesce All'intervento Ancora Di battere Di battere Slovenia Slovacchia Ci prova Il cross È lungo Però Non ci arriva Nessuno Non ci arriva Un giocatore E pallone Fuori Al trentaquattresimo Signori Mamma mia Che bella partita Denver 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 Cerca Callaghan Cerca Callaghan E trova Derrick Derrick si ferma Cerca Julian Ross Grandissimo Vendore Julian Julian Che cerca Atton Che cerca Baker Che cerca Lenders Ma non riesce L'ultimo passaggio Buona qui Comunque Dai vai Grandissimo Questo intervento Che cerca Di recuperare Grandissimo Robby Peterson È entrato proprio Pesantemente In partita Grandissimo Robby A posto di Bruzar Per Ancora Un anticipo Di Robby Peterson Però ancora Loro ci provano Ma la palla Esce fuori Eh Robby Peterson È entrato di carattere In partita Buono 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 Infatti viene cercato Già subito Dei compagni Peterson 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 Per Derrick Derrick Che cerca Baker Baker Che cerca Lenders Lenders Che cerca Attenzione Atton Pallone per Atton Pallone per Atton Che l'apre per Derrick 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 Sul fondo Cerca il traversone Ancora Oh mannaggia Di pochissimo Julian Rossi Recupera un gran pallone Julian 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 Non ci pensa troppo Prova il tiro Grandissimo Julian Grandissimo Julian Che mette anzi al portiere Mark Lenders Se pareggiano Se pareggiano Forse Non lo so Se pareggiano Se riusciamo a passare noi Contro La Slovacchia Si Perché comunque abbiamo L'uomo vettore Lo scontro di retto Non lo so signori A noi non ci interessa Quello che fanno gli altri Noi nel prossimo video Andiamo a scontrarci Contro la Cina E dobbiamo portarci a casa I tre punti Detto questo signori Vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per i giudizi E per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao